Scopriamo insieme quali sono i cinque giocatori dell'Atalanta ad aver segnato più gol in assoluto nella storia. In quinta posizione troviamo il Papu Gomez con 59 gol. Subito dopo c'è Luis Muriel, il colombiano ha realizzato 59 gol come il precedente. Al terzo posto si piazza Josip Ilicic, lo sloveno ha segnato 60 gol. Salendo ancora di una posizione, al secondo posto c'è Dovanzapata con 79 gol. Il primatista assoluto dell'Atalanta è Cristian Doni, con i suoi 112 gol, realizzati tra il 1998 e il 2003, e tra il 2006 e il 2012. Grazie dell'attenzione. Supportateci mettendo un mi piace al video e iscrivendovi al canale.